Una cosa un po' personale, incredibili i prezzi dei voli per la Sicilia. Per tornare in Sicilia dai parenti per Natale ci vogliono almeno 300 euro. Cioè Milano, Palermo, 300. Pensate che per risparmiare si potrebbe fare... Per arrivare da Milano a Palermo passando per Tirana, per andare a Catena si può risparmiare passando per Parigi. Cioè, vediamo il... Aiuto che ti fai... Ci ha pensato zio Sergio. Chi ha fatto? Io. Ci ho pensato io. Ci ho fatto tutto io. Per Natale ci ho pensato io. Per Natale per tutti e due solo a 120 euro. Noi facciamo i neri. Senti ho fatto tutto. Ho calcolato tutto. Milano, Parigi. Parigi, Barcellona. Barcellona, Francoforte. Francoforte, Tirana, Tirana, Malta, Malta, Milano. E a Palermo quando c'è a Palermo? Ma che sei pazzo? Milano, Palermo, 300 euro ci vogliono al nero. Ma che senso ha tutto sto giro? Ma che si fa? Ma che vuol dire? A trapunto! Ma perché facciamo tutto sto giro? 120 euro li pigliamo. Ma capito? Ma arriviamo per non fare niente.